Stiamo entrando nel Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Stiamo entrando nel Museo Internazionale delle Ceramiche. 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 La risacca I presepi di sabbia di Igea Marina Bellaria Siamo a Cesenabigo Queste sono le barche, le famose barche Bragozzo, Batana, eccetera E ogni barca raffigura un presepe Stiamo attraversando il canale Da una sponda all'altra Per risalire fino al ponte Siamo su una barca C'è molta molta gente Eccoci arrivati Traversata di 30 secondi Le fatte di Cesenabigo L'ultima passa davanti Le fosse dove venivano conservati Gli alimenti, carne e pesce Sono molto profonde Sono molto profonde Ecco la profondità Fino in fondo Ecco l'arrivo dei magi C'è stata La fede che lo fate E' stata Il è di più Le fatte di 10 secondi C'è stata La fede che La fede che Il è di più La fede che C'è stata Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il fiume Marecchia www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info